Questo tutorial è riassuntivo dei concetti fondamentali relativi al passaggio di guardia Passare la guardia, io lo dico sempre, è un'arte nell'arte in quanto rappresenta il momento di scontro, il passaggio contro la guardia tra due persone dotte al jiu-jitsu, quindi due persone che hanno una tecnica a differenza di altre situazioni, per esempio una lotta in piedi anche raffazzonata oppure una lotta di una persona sopra un'altra anche raffazzonata che si possono verificare anche senza un addestramento tecnico, né a jiu-jitsu, né altre lotte mentre invece passare la guardia è una questione di tecnica per cui in questo video illustrerò i principi fondamentali e basilari che riguardano il passare la guardia in altri video poi andremo a esemplificare le varie tecniche di passaggio di guardia in primis il concetto, la guardia sono le gambe quando Alessandro si dice fa guardia o usa la guardia significa che lui usa le gambe contro le mie braccia nel mio tentativo di superare questo sbarramento e di andare in una posizione di dominio, per esempio di là quindi concetto fondamentale sia io che lui, qui ci troveremo impegnati in quello che è un grip fight una lotta per le prese se io non ho una presa e lui non ha una presa non possiamo agire sul colpo dell'altro quindi all'interno di questa lotta che è già il passaggio di guardia è una tecnica dentro la tecnica, un'arte nell'arte esiste l'arte all'interno dell'arte e all'interno dell'arte cioè la tecnica di avere delle prese efficienti quindi in questo caso l'obiettivo di me che sono il passador cioè la persona che deve passare la guardia è avere una postura del corpo efficiente e le mani in una posizione neutrale ed efficiente quindi cosa vuol dire? innanzitutto non posso eseguire i due errori fondamentali di chi non sa passare la guardia provare per esempio a finalizzarlo cosa è impossibile perché io gli regalo le braccia sia così con uno strangolamento che con una leva non ho la posizione per farlo secondariamente non devo facendomi prendere magari dal nervoso appoggiare le mani dove non devono stare in terra quindi qual è la regola? le mani devono stare all'interno dell'ettangolo struito dalla linea dei pettorali su per giù fino all'ascella e il bacino quindi la zona del busto mettere le mani qua non ha senso io non riesco a fare niente per iniziare perlomeno poi nel proseguo possono verificarsi varie situazioni quindi lotta per le prese per esempio se lui ha una presa che mi domina prima di provare a passare dato che io non ho un controllo su di lui è interrompere questa presa e mettere una presa sul suo corpo che sia efficiente per esempio una presa a pistola come si chiama questo un altro dettaglio è estremamente importante non perdere l'equilibrio del corpo poi io non mi devo appoggiare né indietro né avanti e perdere la postura perché in questo caso io non ho efficienza meccanica per eseguire dei movimenti ultime due cose che vorrei dire che poi comunque verranno esemplificate in tutta una serie di video nel passare la guardia mi devo concentrare su due cose innanzitutto quale lato io sceglierò un lato io essendo destrimano essendo destro tendo a passare sempre a sinistra quindi la scelta all'inizio una volta che per esempio la guardia sia aperta è quale lato attaccare per me è estremamente spontaneo andare qua a quel punto sono fortemente incentivato a usare due mani su una gamba e non giostrare due su due per tutta una serie di ragioni la principale e che poi ha una serie di applicazioni specifiche è che le gambe sono molto più forti delle braccia anche se mi schiena a terra la gamba sua è più forte quindi io mi trovo a fare una presa non efficiente invece se io riesco a utilizzare due mani su una gamba una volta scelto il lato ho individuato qual è la gamba prioritaria cioè quella del lato da cui io dovrò passare in base a questa scelta del lato di usare due mani sulla gamba prioritaria io dovrò conservare il dominio della gamba finché non sono completamente passato a questo punto ora posso lasciare la gamba perché io ho stabilito una posizione di dominio vuol dire che il mio baricentro schiaccia il suo corpo credo di avere dato la maggior parte dei principi fondamentali del passaggio di guardia rimarco il fatto che il passaggio di guardia è estremamente complesso ed è un'abilità che si sviluppa nel tempo e non è una delle cose più semplici da apprendere all'inizio del percorso per cui non bisogna frustrarsi quando si lotta con persone che sono già da mesi o da anni che eseguono un addestramento serio e professionale e non si riesce minimamente a intaccarne la guardia si viene spesso ribaltati e finalizzati